Sì, è una dinamica, l'importante è attualmente valorizzare questa dinamica che è nata della crisi, della situazione di crisi, perché c'è questa dinamica molto molto importante della conversione, c'è tanti maluchini che si hanno convertiti dai dipendenti a piccoli imprenditori, piccoli imprenditori hanno trovato questa soluzione per integrarsi meglio nel mercato italiano, ma questa è veramente un credo che dobbiamo tutti lavorare per valorizzare questa dinamica nuova. Noi, io penso, ho pensato anche una cosa molto molto che sarà per il futuro, credo che sarà molto interessante, è questa di creare il tipo di consorzio misto, consorzio, mentre imprenditori maluchini e imprenditori italiani, perché credo che faciliterà molto l'esplorazione, anche l'avanzamento del processo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, l'esplorazione delle opportunità che offre il mercato marocco. con questo tipo di consorzio misto, questa struttura, questa struttura che anche traduce un po' che qualcosa come la solidarietà che dobbiamo avere, che dobbiamo in questa congiuntura difficili per costruire, costruire il nostro sogno che credo è l'area mediterranea, costruire insieme l'area mediterranea e lo spazio mediterranea che credo, credo, sono veramente convinto che è il futuro, è il nostro futuro a tutti.